Scene angoscianti, quelle dell'ospedale di Charleroi in Belgio. Scene che si ripetono dopo la prima ondata della pandemia in primavera. Medici e infermieri di questa unità di terapia intensiva affermano di essere vicini al punto di saturazione nel trattamento di pazienti infetti da coronavirus. Vedere la reazione delle famiglie, perché non sono in grado di venire in ospedale, è davvero pesante, psicologicamente. E' difficile dormire, non sono la sola ad avere problemi a dormire. Ci sono circa 500 nuovi gravi casi al giorno che necessitano di cure ospedaliere nel paese, che conta 11 milioni e mezzo di abitanti. E' una malattia davvero brutta. Non l'ho presa nemmeno sul serio, ma ora so che d'ora in poi la prenderò molto, molto sul serio. Il Belgio sta vivendo una delle seconde ondate più gravi al mondo, con medici e infermieri già sopraffatti dal numero di ricoveri, con pressioni e decisioni difficili da prendere e molto preoccupati per il futuro. Siamo vicini al punto di saturazione, dobbiamo fare delle scelte, scegliere tra i pazienti, perché non saremo in grado di salvarli tutti. Allora a chi salveremo? Il trentenne o quello di 60 anni? Non lo so. Ci sono oltre 270 mila casi confermati al momento nel paese e oltre 10 mila morti dall'inizio della pandemia. E' una scelta per la società, dice questo dottore. Continuiamo ad accettare che le persone stanno morendo e non possiamo curarle. Oppure adottiamo misure impopolari. Ma oggi non vedo più altre scelte. Il paese ha reimpostato restrizioni più severe nonostante gli esperti chiedano il ritorno a un blocco completo. Il primo ministro dice che per ora preferirebbe fare affidamento sulla responsabilità collettiva.